Arianziu ha confessato, è stato lui ad uccidere a colpi di pistola Roberto Tizzi, il 35enne, freddato domenica sera a Martinsicuro. Fermato dai carabinieri ieri mattina in pieno centro, l'albanese è stato portato in caserma ad Albadriatica. Davanti al procuratore capo di Teramo, Antonio Guerriero, Arianziu ha detto di aver agito per vendetta, dopo l'affronto subito nel tardo pomeriggio di domenica da Roberto Tizzi, che per futili motivi lo avrebbe preso a pugni. Diverbio che era stato sedato dai carabinieri con tanto di intervento del 118 per le ferite riportate dall'albanese. Poi in serata il tragico epilogo, Roberto Tizzi stava scendendo dall'auto condotta dalla moglie quando è stato freddato sotto casa da tre colpi di arma da fuoco, uno di questi lo ha raggiunto la testa. Il 49enne albanese ha così ammesso le proprie responsabilità, i magistrati hanno circoscritto il fatto all'ambiente della criminalità locale anche perché la vittima aveva precedenti penali per truffa. Intanto l'ispezione cadaverica effettuata presso l'ospedale di Teramo ha confermato che Roberto Tizzi è stato raggiunto da due colpi di pistola. L'autopsia invece si terrà mercoledì dopo che il PM Bruno Auriemma avrà conferito l'incarico al medico legale Giuseppe Sciarra. Il killer albanese è rinchiuso nel carcere di Castrogno con l'accusa di omicidio volontario. A breve verrà svolto l'interrogatorio di garanzia in carcere.